Giorgia Meloni, l'incontro con il Presidente della Repubblica, come è andata? Cosa vi ha detto? Ora cosa succede? Intanto è andata che sono fiera di ribadire la compattezza del centrodestra, che ha chiesto, ha ribadito al Presidente della Repubblica la sua richiesta di valutare la possibilità di sciogliere le Camere. L'Italia su questo pare siano d'accordo tutti. Ha bisogno di un governo forte, coeso, coraggioso, un governo che abbia numeri necessari, la maggioranza che serve a fare cose coraggiose. Secondo me è anche un forte mandato popolare e continuo a ritenere che con l'attuale Parlamento questo non sia possibile, ragione per la quale la scelta più responsabile, dal mio punto di vista, tra quelle in campo è sicuramente quella di sciogliere le Camere e in tempi rapidi portare la Nazione al voto.